C'è stata questa riunione con l'amministrazione comunale e poi c'è anche questa chat dei commercianti che sicuramente comunicano in maniera un pochino più precisa e puntuale con le forze dell'ordine. Che cosa è venuto fuori? Dall'incontro del sindaco, il sindaco è venuto fuori una cosa che noi sapevamo tra l'altro già, però in tutti i media è passata malamente. Cioè nel media è passato che l'esercito arriverà a Saione, l'esercito pattuglierà per Saione, ci sarà una sorta di militarizzazione dal colle del Pionta a tutto quanto. Non è possibile, non è così perché l'operazione strade sicure, si chiama così, questa iniziativa governativa che tra l'altro è molti anni che è attiva, per la quale è stata fatta la richiesta ai militari, si basa sulla sicurezza antiterrorismo. Cioè gli obiettivi devono essere sensibili, obiettivi terroristici, cioè può essere una stazione, può essere una cattedrale per via del simbolo della cristianità, di sicuro non può esserlo un quartiere e oltretutto i militari non hanno nessun tipo di possibilità di compiere operazioni di polizia e questo è importante, quindi i pattugliamenti loro non li fanno. Ecco, ma questo è, allora è davvero necessario fare questa richiesta? La domanda sarebbe un po' questa. Ma impostata così, cioè in termini di antiterrorismo, se hanno, diciamo così, la sensazione che ci possono essere degli obiettivi sensibili ad Arezzo dal punto di vista terroristico, perché no? No, però impostarla per come è stata presentata, tra l'altro, a tutti i media che hanno fatto un'operazione gigantesca di disinformazione a questo punto, si può dire, come un'operazione di pattugliamento per un quartiere. Ecco, Saione non ha bisogno di essere militarizzato, questa è la mia opinione. Allora, noi non siamo tra questi media, lo dico io, non lo faccio dire lei, perché noi abbiamo fatto parlare il questore, la gente, proprio la gente dice, beh, forse l'esercito no, però più sicurezza sì, più presenza delle forze dell'ordine, addirittura alcuni cittadini dicono a piedi, cioè di modo che, come dire, un po' viso a viso possano incrociare anche gli sguardi dei cittadini. Certo, però bisogna calcolare questo, che due anni fa, quando Saione è stata, diciamo, oggetto di un grave problema di ordine pubblico con delle risse importanti, che poi hanno portato, dopo un paio d'anni di investigazione, anche degli arresti importanti, ecco, è stata fatta un'operazione di polizia gigantesca sul quartiere. Il quartiere non è quello di due anni fa, dove c'erano le risse, dove c'erano gravi problemi, è stato veramente fatto, cioè, chi ci abita lo dovrebbe vedere tutti i giorni, che passano 10-12 pattuglie al giorno, fanno tutte le strade, cioè, la situazione si è normalizzata, quindi c'è chi afferma il contrario, che è una situazione fuori controllo a Saione, fa un'operazione intellettualmente disonesta.